Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna. La giornata di martedì ha visto un discreto soleggiamento su tutta la nostra regione, ma con freddo intenso soprattutto al mattino quando abbiamo avuto intense gelate sia in pianura che in appennino. La giornata di mercoledì inizierà con cieli per lo più poco nuvolosi, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare nel corso della giornata, soprattutto in appennino quando qualche fiocco di neve a metà giornata non si dovrà escludere, soprattutto lungo il crinale. In pianura i cieli saranno per lo più nuvolosi con qualche schiarita in più sulla costa. Le temperature saranno stazionarie con minime molto basse e congelate anche in pianura al primo mattino. Avremo infatti i valori compresi tra meno 5 e meno un grado, mentre i valori massimi saranno compresi tra più 3 e più 8 gradi, ventilazione debole, mare poco mosso. Per ora è tutto, buona giornata!